Questo video... Questo è un podcast triste Un podcast un po' triste, un podcast un po' di lutto Non è morto nessuno Però un po' si Allora, a dicembre esce il nuovo film di Stine Spielberg Atteso da tanta gente Anche da me, pure da te mi sa Eh, Spielberg Giusto a Ciavoni non piace Ma lascerò, ciao Fabrizio Bridges of Spies, che tu dici? C'è Stine Spielberg C'è Tom Hanks Si stanno riunendo tutti È una storia di spie nella Russia E come quando hanno fatto la reunion di American Pie Come hanno fatto la reunion dei... Dei Beatles Che poi sono morti Ma loro si sono riuniti da morti Delle Spies Esatto, Bridges of Spies Bridges of Spies Che non sono le Spies Girls Che succede? C'è i fratelli Cohen che hanno scritto la scelteggiatura Dici, adesso chissà che... Non manca nessuno Solo non si vede John Williams Che dice che non lo fa Come non lo fa? Non lo fa John Williams John Williams è il primo film che non fa con... Cioè è presente Tenten C'è sempre il cagnolino a fianco Esatto Dici perché? Perché Toto c'è Peppino C'ha 83 anni Giannacone Rauco Esatto Cosa è successo? Allora, salutiamo John Che è insomma un amico John ti vogliamo bene Amico, sei iscritto al canale Allora È successo che lui c'ha un... C'ha 83 anni Non sta benissimo E quindi Non sta benissimo Non riesce Deve stare appresso a JJ Abrams Con Star Wars È il seguito Tutta la tecnologia La deve fare lui E poi Insomma Non ce la fa E quindi ha detto Steven Stavolta ti do buca Lui Si è consolato Che ha preso come sto scritto Thomas Newman Che non è proprio l'ultimo Diciamo che però Se facciamo un confronto C'erano 49 nomination all'Oscar Si E 5 vittorie E 12 nomination all'Oscar E 0 vittorie Si tornando a Toto e Peppino È come quando manca Peppino e c'è Isa Barzizza Che poi per carità Isa Barzizza All'epoca Faceva furore Eh Però Ma Sniomano un po' meno Questo è il mio podcast preferito All time Diciamo che Perché parliamo Facciamo un po' L'otto e mezzo Di Popcorn Vai Noi a un certo punto Mi ho detto Ma di che stracacchio parliamo E c'è Siamo andati su Geek Tyrant L'unico Argomento che ci è venuto In mente bello Ci diamolo Che è Michael Mann Ne abbiamo parlato Ne abbiamo parlato Che invece Ma c'è un altro argomento Sotterraneo Ah Qual è questo Ma è il ragazzino Che fa l'album Ah Abbiamo detto Ma parliamo di Favij Che fa l'album delle figurine Però non ci convinceva Posso fare un applauso Fa come Favij Favij Un milione E seicentomila Iscritti Al canale Per un ragazzetto Anche simpatico Che gioca a videogiochi Ah quindi Noi dalla settimana prossima Cominciamo a giocare a videogiochi No Facciamo i Movie Movie play Cioè noi Mentre vediamo i film Ci riprendiamo No John Williams Qui hai sbagliato la nota Per esempio No cioè ci andiamo a vedere Dimmi un film The Avengers No guarda che figa D'Iron Man Sì Oppure no Ma la fotografia Doveva virare Verso Verso il blu Noi ci riprendiamo E commentiamo i film Ma un milione e seicentomila Sono troppi Non credo li raggiungiamo Anche di centomila Ma diteci se vi piace Quest'idea Che noi ci riprendiamo Mentre facciamo i film Ma così come Quelli che giocano ai videogiochi Non stanno tutto il tempo A urlare Mentre nei video Sì noi pure urliamo Mi piace Che ne so Entra Facciamo una preview Entra Scarlett Johansson Oh mio dio Non basta con gnocca Oppure no Che ne so Noi siamo fan di Io non penso diremo gnocca Ma sai che fai No Non si può dire Non si può dire Metti che entra Invece una cosa Che non ci è piaciuta Noi facciamo Scartala Con blotto Esatto Con blotto Mi piace Mi piace E i fan Mi piace La prossima settimana Facciamo sti La prossima settimana Partiamo così Dai Ciao Reloaded Esatto Vodcast Reloaded